La sclerosi sistemica, più comunemente nota come sclerodermia, è una patologia rara che colpisce nel nostro paese circa 30.000 persone. La vasta diffusione della malattia e la differente evoluzione da paziente a paziente fa sì che il malato affetto da sclerosi sistemica debba essere trattato secondo protocolli altamente personalizzati e cercando di ospedalizzare il meno possibile, anzi promuovendo quanto e quando possibile le terapie a domicilio. Per fare il punto della situazione e accendere una luce sul problema della sclerosi sistemica è quindi partita la campagna La sclerodermia è anche nostra, promossa da Gils, Lys e Amrere con il contributo non condizionato di Italfarmaco. Si tratta di una campagna di informazione e formazione i cui contenuti possono essere fruiti accedendo al sito www.sclerodermia.info. Professor Natuzzi può spiegarci che malattia è la sclerosi sistemica? La sclerosi sistemica è una malattia autoimmunitaria considerata una malattia rara ed è una malattia che colpisce all'inizio, nel momento in cui la malattia parte, i vasi ma poi si trasforma e colpisce essenzialmente i tessuti, i tessuti che non sono solamente quelli cutanei, come dice la malattia stessa sclerodermia, cioè cutedura, ma colpisce purtroppo anche gli organi interni e questa progressiva evoluzione della malattia e con il danno che viene fatto a carico degli organi interni riduce essenzialmente la funzione di questi organi. Quindi potete immaginare cosa succede a livello polmonare, cosa succede a livello cardiaco, a livello renale, a livello di tutto il tratto gastrointestinale. Quindi è una malattia sistemica, non è solamente la malattia della mano fredda, ma è una malattia sistemica che toglie la qualità di vita ai nostri pazienti. Quali sono le opzioni terapeutiche che avete a disposizione per combattere la malattia? Oggi abbiamo molte opzioni terapeutiche e soprattutto ci siamo mossi verso una nuova visione della terapia, cioè la cosiddetta terapia combinata, che è fatta di terapia immunosoppressiva, terapia antifibrotica e terapia vasodilatatrice. Quindi sono tre componenti, che sono tre componenti fondamentali della progressione della malattia, che noi oggi siamo in grado di controllare e di bloccare soprattutto nelle fasi più precoci, per evitare che si arrivi alla fase del danno degli organi interni. È vero che il paziente affetto dal carosi sistemica necessita di terapie molto personalizzate e se sì, per quale motivo? Quello che io ho detto delle terapie precedentemente va applicato a ogni singolo individuo, a ogni singolo paziente, a seconda della fase di malattia in quale questo paziente si presenta e soprattutto a seconda di quale organo è maggiormente colpito. Per cui ci saranno alcuni assetti terapeutici che vengono utilizzati nella fase molto precoce, ma altri assetti un pochino più diversi che si applicheranno nella fase più avanzata e la combinazione dei farmaci, non solamente la combinazione, ma il dosaggio dei farmaci e l'intensità della cura ovviamente sarà soggetta alla situazione sul campo che noi abbiamo. Ogni paziente quindi rappresenta una sua identità, quindi la personalizzazione della cura è diventata oggi fondamentale. Grazie per la visione!